In realtà il tavolo è nazionale. Allora, è un'azienda a livello nazionale dove tutte le trattative quando riguarda il contratto integrativo nazionale si svolgono a livello nazionale. Anche questa azienda ha disdettato il contratto integrativo nazionale e poi la ciliegia sulla torta ha ritenuto opportuno dall'oggi al domani chiudere anche il punto di vendita di Teramo che è un punto di vendita nella città di Teramo storico. Dal punto di vista formale, poi ci mettiamo anche il punto di vista etico e morale. Si può avvisare un dipendente che deve andare a casa o comunque deve accettare un trasferimento entro pochi giorni perché parliamo del 30 settembre? Io direi che in questa azienda l'aspetto etico da quando sono entrati i francesi è una cosa diciamo di utopia. E' un'utopia che loro decidono in base ai numeri e quindi non guardano né la storia né della storia del punto di vendita né l'impegno che hanno avuto, che hanno messo in questi anni di crisi diciamo di crisi i lavoratori e quindi loro guardano soltanto il numero e purtroppo vengono delle persone che non hanno preso questa decisione a comunicare ai lavoratori che entro 20 giorni stanno a casa. E li chiamano tagliatori di testa, è una professione come un'altra? In quest'Italia purtroppo i tagliatori di testa ce ne sono un bel po'. Il problema è come dicevi tu, è l'etica, è la morale che in quest'Italia purtroppo e in questo settore specialmente è andato via ma da molto tempo. Signora da quanto tempo lei viene a fare la spesa qui? Di quando è aperto, quando l'hanno aperto insomma. Si è trovata sempre bene? Sì, sì, faccio il giro di tutti i negozi e qua risparmio. Che cosa vuole dire a questi lavoratori? Che devono fare l'ottava, non fare chiudere. E lei sarà con loro? Sì, certo. Che si prova da cliente a vedere una famiglia, perché loro sono una famiglia, andare via? È tristissimo, perché io sono cliente da più di vent'anni, appena aprirono, abitando qui alla zona industriale di Sant'Atto e sono continuata a venire anche trasferendomi a Teramo. Quindi per me era come trovare delle amiche, anche perché è un personale estremamente gentile e sempre disponibile. Quindi per me è stata una cosa veramente un fulminaccio sereno, perché non me l'immaginavo mai. Non è giusto la mattina andare a lavorare e trovare il famoso tagliatore di teste che ti dice che deve andare via o essere ricollocata con uno stipendio part time tra Forlì e Pescara? È terribile, deve essere terribile, specialmente perché conosco bene tutte, appunto ripeto sono anni che vengo qui, i miei figli sono cresciuti con me sui carrelli e quindi mi immagino come possano sentirsi perché da ex lavoratrice anch'io, non chiaramente in questo campo, ma deve essere una cosa molto triste, insomma è molto grave anche, molto grave.